La Rainbow Catania Basket cade nella trasferta siracusana in casa della Finice Priolo. La gara del Palacradina stoppa la corsa delle ragazze di Deborah Bruni con un 53-49 risicato. Le catanesi provano a recitare una variante del copione visto sul parquet una settimana fa contro il Cus Messina, agganciando bene la gara con le priolesi che rispondono senza timori, recuperando e guadagnando il vantaggio con Terranella per l'11-8. Il primo periodo si esaurisce con le padrone di casa avanti di una sola lunghezza. Il 13-12 col quale la gara si sposta nel secondo quarto lascia presagire il grande equilibrio che regnerà fino alla sirena. Alla ripresa Ferlito e compagni mettono in campo i frutti della grande preparazione atletica impostata da Deborah Bruni con la quale guadagnano un break di tre punti portandosi sul 19-22. Potrebbe essere la svolta del match ma la Fenice non si impressiona e riesce ad agguantare pareggio e sorpasso con un parziale che alla pausa lunga recita 23-22. Le ragazze di coach bordieri provano allora la fuga nel terzo tempo guidate da Guerri che scava un solco di quattro punti dalle catanesi. Chiarelle e compagne però sono abituate a tenere vive situazioni ben peggiori e riescono a ricucire lo strappo fino a chiudere in vantaggio per 30-6-30 la frazione. Sembrerebbe l'ennesima occasione in cui il terzo periodo funge da alleato per l'etnè ma la Fenice non è intenzionata a cedere punti casalinghi. Le padrone di casa nell'ultimo quarto accorciano sul meno due con Terranella a siglare il pari dopo quasi tre minuti di gioco. La Rainbow scappa ancora ma ci pensa Guerri a riprendere le ospiti con la tripla del 42 pari a poco più di 5 minuti dalla fine. Il finale come al solito convulso con le catanesi che provano il nuovo allungo con Capitan Ferlito ma vengono riprese dalla tenace resistenza priolese. Tra le padrone di casa sale in cattedra la bombo che trascina le compagne fino alla sirena. Le tnè mollano così la vetta del girone per ora a pannaggio dell'alma patti e proprio della Fenice Priolo a punteggio pieno. La Rainbow resta nel gruppone delle inseguitrici. Il momento del rilancio per il gruppo guidato da Deborah Bruni è già fissato sabato pomeriggio al Palacatania contro la Rescifina Messina servirà a rivedere l'arcobaleno.